Tantissimi gli eventi partiti sabato scorso che proseguiranno per tutto il mese di ottobre e novembre per i cento anni di Torrazza Piemonte. Domenica scorsa, 15 ottobre, si è tenuto il clou della manifestazione con il ritrovo presso la piazza del municipio alla presenza delle autorità militari, religiose e civili. La banda musicale torrazzese, nata per i cent'anni e alla sua prima uscita, ha aperto le danze con la sfilata per le vie del paese, arrivando nuovamente in piazza dove è stata celebrata la messa. Nel pomeriggio, da lietare tutti i presenti, gli sbandieratori di Grugliasco, accompagnati dalla banda musicale, con uno spettacolo che ha lasciato tutti i partecipanti ammagliati dalla loro bravura e tecnica. Nel pomeriggio, da lietare tutti i nostri spettacoli di Grugliasco, accompagnati dalla loro bravura e tecnica. Nel pomeriggio, da lietare tutti i nostri spettacoli di Grugliasco, accompagnati dalla loro bravura e tecnica. Nel pomeriggio, da lietare tutti i nostri spettacoli di Grugliasco. Nel pomeriggio, da lietare tutti i nostri spettacoli di Grugliasco. Nel pomeriggio, da lietare tutti i nostri spettacoli di Grugliasco. Nel pomeriggio, da lietare tutti i nostri spettacoli di Grugliasco. Nel pomeriggio, da lietare tutti i nostri spettacoli. Gugliasco. E poi la sorpresa, durante i discorsi istituzionali, a fare capolino il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, che per l'occasione ha donato una targa a ricordo al sindaco Massimo Ruzzino. Ci lega veramente un rapporto d'amicizia, di collaborazione, perché a prescindere dai comuni, ci sentiamo spesso e volentieri per qualsiasi problema. Quindi, sindaci appartenenti alla zona 410, al CIS, al Fosso di Bacino, ovviamente da Barcelli, qui arrivano, da Alessandria, dove è il sindaco di Alessandria, di Gambiano. Abbiamo con noi il presidente della regione Piemonte. Allora, buongiorno a tutti e grazie di questo graditissimo invito. Io, grazie caro sindaco, sono davvero anche io molto emozionato perché è davvero un momento in cui uno sente tutto il calore di questa comunità e soprattutto sono felice che mi abbiate dato la possibilità di essere presente a questo vostro compleanno, come se mi avessero invitato in una famiglia dove si festeggia il compleanno di una delle persone più care. avere 100 anni è un traguardo importante, sono paesi del mondo che non li hanno 100 anni, per cui noi a volte non siamo abituati ad avere un paese che ha una storia millenaria, ma dobbiamo esserne davvero molto orgogliosi e credo che il sindaco tu abbia fatto bene insieme a tutte le associazioni a voler celebrare questo momento con tutta una serie di eventi, iniziative che sono sia di festa, come quella che avete fatto ieri, sia momenti che ricordano la vostra storia, la vostra storia e che la vanno a cristallizzare all'interno del libro che andrete a presentare nella giornata di oggi. Io sono molto felice perché condivido con voi come governatore del Piemonte questa grande festa, insieme a me lo fa un torrazzese che ho in consiglio regionale che è Gianluca Gavazza, torrazzese da parte di Manno, che è solo che metà, 50%, 50%, anche l'altro 50% di Asti, qui in Cambi Provincia, quindi... Ma quanti 50 hai tu? C'è, se la c'è sotto, 50%, 50%, 50% è buono, no? Beh, d'altronde sei abbastanza rotondo, hai 3,50%. Ti ho rubato il posto Alberto, no? No, beh, tra Alberti possiamo parlare. Andrea Ceruti, consigliere regionale, che è anche qua con me, che voglio ringraziare. Insieme a Gianluca Vignale, che è il mio capogabinetto, grazie Gianluca che ha curato anche le parche organizzative. Un saluto di cuore a tutte le associazioni di Torrazza, che ho potuto vedere nelle loro divise, nei loro colori, ho potuto sapere che la banda si è costituita oggi per l'occasione, vi farei un grande applauso, perché la banda... Sono persone che sacrificano il loro tempo, la loro vita, per portarci la musica e senza una banda non c'è una festa, senza una musica non c'è la gioia, per cui a loro dobbiamo tanto, così come a tutti i volontari che io vedo, dalla Protezione Civile, che ringrazio e che apprezzo tanto per il loro lavoro, un grande applauso a voi, un grande applauso alla Croce Rossa, al suo Presidente, nonché Sindaco, Presidente Ferreiro, che qui per me è Presidente anche della Croce Rossa regionale, e ai volontari che ha qui con noi, a tutti i sindaci di questo bellissimo territorio, alle forze dell'ordine, e poi se ve lo permettete, un applauso ai vostri tre preti, ai tre sacerdoti che avete, io li farei alzare in piedi, voi li alzare in piedi, perché guardate, un applauso grande, vi ho fatto fare anche un applauso, perché io sarò un po' all'antica, però io quando vedo i preti con i jeans, tutto ci sta, però io quando li vedo vestiti, come ci hanno insegnato a vederli vestiti, e che danno anche ai nostri figli, così un'immagine anche di maggior rigore, e di maggior austerità, mi piace di più, e quindi vi ringrazio, vi ringrazio in cuore. Bene, dopo aver ringraziato tutti, permettetemi davvero di concludere questo momento ufficiale, attraverso la consegna di un riconoscimento, che come Regione Piemonte, io vorrei dare, vorrei chiedere a Gianluca, se sono tutti d'accordo, di salire qua come sul palco, Gianluca Gavazza come torrazzese, e di portare, ce l'abbiamo qua a Gianluca, così la consegniamo insieme, allora guardate, io credo che le parole del Sindaco, sono state straordinarie, pensate che 15 giorni fa, abbiamo ospitato a Torino, tutti i governatori, i presidenti delle regioni italiane, il Presidente della Repubblica Mattarella, e il giorno dopo, il Presidente del Consiglio Meloni, e sono venuti tutti a celebrare, l'Italia qui da noi in Piemonte, e io ho voluto, nella domenica sera, invitare tutti i presidenti, delle regioni d'Italia, a un concerto che abbiamo fatto, all'auditorium della RAI, e sapete che ho invitato al concerto, ho invitato tutte le associazioni, dei piemontesi, che arrivano da altre regioni d'Italia, che oggi sono piemontesi, ma che arrivano dalla Sicilia, che arrivano dalla Campania, dalla Calabria, dal Veneto, e vi ho fatto bene a ricordare, anche dal Friuli, perché se questo Piemonte, è diventato grande, è diventato grande, grazie al lavoro di tante donne, di tanti uomini, che per cercare il lavoro, e per cercare la sicurezza, per sé, per le loro famiglie, hanno dovuto lasciare la loro casa, il loro ambiente, le loro abitudini, il loro clima, per spostarsi qui in Piemonte. E allora io voglio dire grazie, lo dico oggi, in questo comune, in cui tanti torrazzesi provengono, da altre regioni d'Italia, perché ci avete portato, non solo lavoro, che è molto importante, perché il Piemonte è cresciuto, ma ci avete portato cultura, ci avete portato passione, ci avete portato identità, e oggi io credo che il Piemonte sia una grande regione, anche perché ci sono un po' condensate tutte le regioni d'Italia. E oggi siete torrazzesi, e oggi avete un comune di cui celebrate i cento anni, e io credo che questo sia un patrimonio che trasmettiamo ai nostri figli, perché i nostri figli magari andranno a vivere chissà in quale parte del mondo, parleranno chissà in quale lingua del mondo, ma chi viene da Torrazza sa che questa piazza, che questo comune, che questa storia c'è. Lo diceva Cesare Pavese, avere un paese è importante, perché avrai sempre un posto in cui potrai ritornare. Questo è un valore assoluto, ed è il mio augurio per i vostri cento anni, il Piemonte vi vuole bene. Dall'uncarecci tu! Ai comuni di Torrazza Piemonte, nel centenario della sua istituzione, identità è il punto di riferimento prezioso di un'intera comunità. Non poteva mancare la madrina dell'evento, Giorgia Dentello, torrazzese doc, che con la sua bellezza e semplicità ha interpretato perfettamente il ruolo assegnatole. Giorgia Dentello, la madrina dei proscriti di Torrazza. Vieni, vieni qua, Giorgia. Mi allungo un microfono. Mi sono preparato una domanda per te. Come stai? Vieni, grazie. Sono molto onorata di essere qui. a rappresentare appunto i coscritti di Torrazza Piemonte e è una grande emozione. Va bene, la stemperiamo subito l'emozione. Ti faccio due domande così ci sciogliamo, parliamo un po' del più del meno. Tu quanti anni hai? Ve l'hai già detto. So che non si chiede alle signore, quindi cancelliamo questa domanda. Faccio la domanda così. Ma quanto pesi? Non si dice. Stesso la smetto con le stupidaggine. Tu hai studiato? Basta, poi basta. Cos'hai studiato? Allora, adesso sto studiando scienze naturali a Torino per poi potermi laureare e vorrei un giorno diventare una biologa malina. Ok. Grazie. E ti chiedo a questo punto, facciamo le domande più difficili adesso. Tu sei giovane. Sì. Siamo quasi coscritti, io e te. Certo. Noi giovani, com'è essere giovane a Torrazza? Allora, bellissimo, certamente. essere giovane a Torrazza significa uscire tutte le sere ovviamente a Torrazza. Io purtroppo è da un po' che non lo faccio perché con i ritmi della scuola e tutto quanto, però in generale durante l'estate eravamo sempre in piazzetta, a chiacchierare tutti insieme, così. Sì, la vita di paese, non è niente male direi. Visto che c'è il sindaco, approfittiamo, se potessi cambiare una cosa di Torrazza, un consiglio che possiamo dare al sindaco come i giovani di Torrazza, magari lui, tutte le idee sono buone, magari uno spunto, chi lo sa, assolutamente. Io metterei Starbucks per attirare la tensione. Non so se dipende dal sindaco. No, no, purtroppo questo non penso dipende dal sindaco, può, secondo me. Allora, di Barcelli... Possiamo anche dire che ma tutto bene. Sì, per il resto, io sono soddisfatta del mio paesino. E beh, e non è poco, eh. Grazie. Grazie. Grazie.